Potevano fare un video sul trauma del Trump 18 si però ho voluto farlo lo stesso e facciamo a trento di nuovo Ciao ragazzi con Dado che non è mai venuto sul canale Ciao E che sei stato tu sul mio canale poche Non ne so Sicuramente mi ricordo il tuo canale Leo il video che ci l'ha fatto a tema furry Oh vero Non abbiamo più fatto il continuo in cui doveva fare l'appuntamento Per fortuna No Dai 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 Chris dai Quanto mi paghi? Zero Non sei degno Quest'oggi ragazzi siamo tornati col trauma del Trump Che è un annetto che non portavo Perché ho trovato la versione più 18 In cui la prima carta che ho visto dentro era tipo un campo di concentramento di bambini Io aggiungerei che è un'espansione Cioè i pezzi di merda Potrebbero vendere solamente quella Sì Però manca l'essenziale Campo da gioco Costa quanto il gioco originale Ma ti obbliga a comprare anche la versione originale Sì perché non hai questo pezzo di carta qua Me lo disegno Sì dovremmo fare così Come funziona il trauma del Trump? Ci saranno dei round dove due si sfideranno e tre saranno i giudici Quindi stavolta il Trump lo guidiamo a gruppi Una guida a tre mani Bisognerà mettere due carte buone sul proprio binario E una carta cattiva sul binario dell'avversario Per farglielo peggiorare In più dopo ci sarà una carta neutra Che si può mettere dove cazzo si vuole Per peggiorare l'avversario o migliorare se stessi Dopodiché i tre giudici dovranno decidere Su quale binario passare e che uccidere Partirei magari con le noob Facciamo due 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 E due Ma eh cioè Questa roba non è inner joke americano De più Acqua pulita in viaggio verso Flint Michigan Per aiutare nella crisi idrica Che è la loro messina Giovanni non sa più quali sono quelle buone e quelle cattive Alcune buone sono una cattive Ho pescato Hitler Allora Leo I tuoi genitali Anzi i vostri genitali Sono sui binari È un binario molto strano Domenica pomeriggio interessante abbiamo avuto Quella volta che mi sono trovato sui binari Col cazzo mio di Dado e di Tizio20 Muori così Anche tu qui Dovrebbe essere una carta buona questa Appunto Non devi passare di Dado Tu non vuoi passare su quello di Andrea Giusto hai ragione E tu te bene cosa giochi? Io gioco l'eroico consulente scolastico Che sventerà la prossima sparatoria Nella vostra scuola Perché voi andate ancora a scuola Eh ma in Italia non ci sono È molto americano Eh sì Siamo fida di essere a Chicago Tutto il titolo che dici Lo sto facendo per PewDiePie E poi gioco la classica carta Win-win situation Che è un intero stabile Perché è una clinica veterinaria gratuita Che colpendola Sarà morte certa per il voto treno Quindi i preti genitali O la vita compresi i genitali E devi però capire una cosa E devi capire Che tu non sei sul treno I giudici non sono sul tram I giudici decidono dove va il tram Il tram è fuori controllo Ah è vero Noi non siamo sul tram A prescindere io sceglierei i miei genitali Non me ne fotte un cazzo di un intero ospedale Ma non è il guidatore E tu che decidi dove va il tram Ma tu non sei sul tram E effettivamente Andrea c'era già Non si è mai mai pensato Ma se io sono qua Non posso essere anche sul tram È vero Tu sei teoricamente quello Che ha il pulsantino per smicciare i binari Come non sei il guidatore Disastro L'abbiamo sempre soccato sbagliato Buongiorno Per me ero sul tram Il mio alter ego Contemporaneamente era anche Con le palle sulla rotaia Puoi sapere come sei finito Con i genitali sul binario Raccontami questa storia papà Eh c'era una persona single E attraente nella tua zona Stava là E tu stavi per quello E come hai conquistato mamma Allora How will you meet your mother? Te lo devo dire Non sei messo bene Spawn Te lo devo dire Quando non siamo più sul tram Tempo di peggiorare la situazione Sì Peggiorata dall'avversario Dopo lo stabile C'è un tizio Che sta facendo sesso Con una bambola gonfiabile Con le tue sembianze E un po' lo vorresti morto Che stupido Noi eravamo sull'altro binario Facendo vedere il cazzo Io l'ho perso sto round Il gioco Una boomer prepotente Che esige di parlare con il tuo capo Ah noi siamo a partita IVA Tempo dei modificatori Potete metterlo dove volete In realtà Quello non è un palazzo Ma è Cristiano Ronaldo Sotto mentite sfoglie Quindi quel palazzo È fatto di cartone Uno strano momento Qui Cristiano Ronaldo Era diventato un palazzo La persona tenendo la tua zona Che ti ha messo i genitali lì E con cui vai spesso Anche fuori a cena Ha l'abitudine di usare Lo smegma Come condimento Per l'insalata Giurando che sia Feta greca Che schifo Non è un motivo Per uccidermi Tecnicamente è il mio Quindi Ma cosa vuol dire Che è tuo Sto scherzando Sul circonciso Non ce l'ho lo smegma Hai ragione Io passo su quello di Giovanni Ma anch'io tutta la vita Palese Cioè mi spiace Ok va bene Muogliono 150 ragazzini Per una sparatoria a scuola E Cristiano Ronaldo Fate voi Sono americani Va benissimo così O no di nuovo Oh no Oh no Mi dispiace Anyway Passato sopra Giovanni Giovanni è andato Porto Andrea riceve il 100% Della società Vai facciamo io contro Giovanni Ok Allora io ti gioco la mia prima buona Che è Tutte le spose bambine Di un patriarca Poligamo di mezza età Ok Beh hanno comunque una vita infelice Io mi gioco Un gruppo di sopravvissuti Una sparatoria a scuola Quella di prima Beh se prima abbiamo perso Te l'abbiamo avanzato Non sono sopravvissuti Mi spiace dirtelo eh Era una sparatoria I pochi sopravvissuti sono Cinque Sono venuti Sui binari Sui binari A fare un omaggio A ricordo Ai morti Posso dire non molto furbo Da parte loro Come cosa Però va bene Comunque tu stai significando Quattro ragazzine E io cinque Quindi E questo io l'ho messo Solo perché non ho capito Perché è buona Però mi piaceva Un club di robotica Del liceo Che sperimenta strumenti anali Sì ma lo sta facendo Contro la volontà Di due ragazzini Non so Lei non mi pare Così poca volontà Ma lei sta proprio A prendere chiappe Vero A lei piace E quindi Come sei scappato Dalla sparatoria a scuola Allora Eravamo sul treno Che stavamo facendo Una centrale nucleare Accanto a una grande città Che se colpita Causerebbe un disastro Mille volte peggiore Di quello di Chernobyl Ciò significa Che mille volte peggio Di Chernobyl Dagli USA Probabilmente arriva Pino a casa vostra Quei datori Sono molto simili E' un disastro secato Quelli Di Griffin Ah dei Simpsons Vero 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 Adesso ti gioco La mia cattiva Subminaio di Giovanni Che è Pupazzi meccanici Che prendono vita E vogliono fare sesso con te E' la rule 34 Di Five Nights at Freddy's Sai che quasi Quella è la pimpa Mola È la pimpa È la pimpa La pimpa col cazzo Vuole salvarla ora Io ho messo il fondatore Di Scientology Dio e re dell'universo Mi mancava che fosse Queste ultime due cose Ma Scientology Non era tipo quella Che denunciava Ogni singola cosa Che la perculavano Sì Con la Tom Cruise In cima Eh mi sa che Qualcun si ha preso una piccola denuncia Non noi Perché noi non ci passiamo Sopra Scientology Vero Lo salviamo questo binario Ma la città Eh ti prendi una denuncia Da Scientology Se ne ammazzi Sono morti Sti cazzi Cioè Aspetto i vostri modificatori Sti cazzi Deveva centrare il nucleare Che piglia fuoco Cioè Un purri meccanico Che mi viene a scopare Peggio Lo so Sono un po' Senti Preferisci un olocausto nucleare Non vuoi sapere la risposta Ok Ti fermo subito Io ho i pupazzi meccanici Che prendono vita Vogliono far sesso con te Di cui Dado Ha molta paura Che inoltre Sul punto di fare Delle zozzerie Ma consensuali Con tutta la tua famiglia Allargata Quindi poi te lo trovi Tipo come padrino Che ti scopa tua mamma Allora Invece i ragazzi Del club di robotica Del liceo Che stanno sperimentando Sperimenti anali Che se salvate Vuol dire che avete Un interesse serio Sul provare Tutti i loro giocattoli Hanno una grande passione Per gli entai Quindi probabilmente Faranno anche dei tentacoli Robotici Che rientrano dappertutto Semplicemente Leo Che ha sperimentato Il club della robotica Io non ho mai fatto Parte di un club di robotica In un universo alternativo Allora potete scegliere Tra E beh Quelli della sparatoria Che poco contano E un disastro nucleare Mille volte pezzo di Chernobyl Posso dire che è molto scenico La mia scelta Mi porta sul binario In basso Questo è il mio Molto bene Molto bene Anche per me Stessa cosa Dado la tua voglia di morire È irrilevante Tua madre scoprirà un furry E non puoi farci niente Andrò comunque sopra Andrò comunque sopra Ti proverai Piuttosto che avere un furry Come patrigno Ci provo A sto punto Vabbè Il disastro nucleare sia Doveva andare così Fratelli Sai che i furry hanno già cominciato Perché avevano già male al culo Ragazzi Leo contro Chris Sono tre torri giamelle No E di tu a tre Quello diventava interessante In verso alternativo Porca puttana Questa mi serviva con santo I gattini I gattini Allora Io mi prendo sotto sopra Dove vuoi Tanto perdi Allora Sul mio binario C'è Maria divina coltivata da Gesù Stesso in persona In che senso Ah non so Hai dell'erba Che ha coltivato Gesù Ok fanculo Mi sa che sei un po' morto Mi piace questa tua passione Per Gesù Perché dopo Dopo l'erba Che ha coltivato Gesù C'è pure Gesù sexy Non posso uccidere Gesù sexy Mi dispiace Quanto è blasfemo Questo binario Alla chiesa cattolica Non piace questa cosa Sul mio binario ci sono Tutti i server Di porno No Ragazzi Fa il culo Il cattolico Se cancellassero tutti i server Del porno del mondo Resterebbe un solo server Chiamato ridateci server Del porno del mondo E in più C'è un oleodotto Che rovinerebbe Un parco nazionale Immacolato Se venisse I don't care La cosa più inutile Ragazzi La natura Va bene Sul tuo malvagio Ti metto Zombie affamati di genitali Invece che di cervelli Ma sai che Ma è un malus Se sicuro C'è gente che Tu vorresti con lo zombie Ti mangia il cazzo No però C'è calcola che finalmente Qualcuno lo tolta Sul binario di Gesù Cristo Nella religione cattolica C'è Un pene verme Assassino gigante Oh ma c'è tutto quello Che c'era nella bibbia Ok allora sto pensando a una cosa Cioè il pene verme E quello che farà Sarebbe l'ultimo lascito Della cultura porno Se distruggessimo il primo binario È vero E ti mangerebbe Però se ci facessero un video Tornano di nuovo a TV porno Ricostruiamo dalle sederi La civiltà Ci riprendiamo quello che è il nostro Modificatore Mette un po' di modificatori Ma Leo tu dove hai metto il binario? Questo è il mio Minchia si è messo male Ma c'è Gesù Che fuma l'erba Appunto Beh più che altro c'è un cazzo gigante Il porno è la prima fonte di Intertenimento Per questo mi piace internet Io ho un dubbio solo ed esclusivamente Per risalvere il porno E poi si aggiungerebbero pure alle categorie dei porno Se risalvi pure zombie che mangiano genitali È una categoria un po' gore Che magari ad altri miei potrebbe piacere Allora io non so se riesco a vincere o meno Però mi piace questa immagine qua La metto su Gesù mio Ma come? Tutte le cose su Gesù? Doppio modificatore per Gesù Power up per Gesù Cristo Vabbè Vuoi vedere la tua? Allora Si Un divinamente sexy Gesù Cristo Con l'abitudine di rimorchiare fuori da una clinica di avorti Non voglio avere immagini del genere in mente Quindi battiamo Gesù ragazzi Gesù dice di no Però se lo fanno poi Gesù se lo incula Lo fa perché capisce la tristezza di perdere una vita Esatto È GG Gesù generoso Gesù generoso Io mi sono fatto un po' malus Perché è il divinamente sexy Gesù Cristo Il cui portafoglio contiene delle foto di tutta la tua famiglia coperte di sperma Non lo so ma mi piaceva questa immagine Ah questo è un Il treno dovete farlo passare qua Qualcuno Gesù Cristo Tu dovevi giocare la canta Restiamo il venario inferiore Però pensa D'accordo Sì Siamo d'accordo Sì Sì Però pensa Così il messia venne sacrificato di nuovo Non crociviso stavolta Però pensa se tu toglievi tutti i porno del mondo Gli unici porno che rimanevano erano quelli della tua famiglia Vai dado contro Chris Sei sicuri che siano dei bonus? Questa la investirei istantaneamente Anche questa Ora ti metterò delle carte fake mentre dici queste cose qua Questa la investirei istantaneamente Anche questa Allora io metterò questa qua con la consapevolezza di perdere Ma come? È una carta che va giocata secondo me Comincio io? Allora io ho due adorabili pinguini gay allo zoo Quindi se li ammazzi Cioè se li ammazzate voi Siete anche omofobi Persone di merda Mai detto il contrario E dall'altra parte abbiamo un genio del sesso Che ti concederà desideri sessuali illimitati Zì se salvo i pinguini ho il desiderio del sesso Ho due cose in una? Sì Non va bene Puoi creare altri pinguini gay nel sesso Fai questo zoo pieno di animali omosessuali Sul mio binario ho un bambino affamato di quelle pubblicità strappalacrime per i poveri Eh ma è solo una pubblicità È solo una pubblicità Non è la vita reale non esistono veramente Cioè per esempio quello lì non è per me un bordo Ah sì Oppure un palloncino contenente una malattia trasmissibile per via aerea Che ucciderebbe tutti i gattini sulla terra Se venisse arrivata Eh fuori quei pazzi di pinguini dai su Stai scherzando? Vanno ammazzati i pinguini I gattini? Io odio i gatti Maggiori di tutto Io odio i gatti Favori sessuali Cioè veramente preferisci i gatti ai... Siamo d'accordo Ma come siamo d'accordo? Io e te siamo d'accordo Ah perfetto Anche io spero adesso passo sul bambino ai gatti Eh ci manca Però vediamo Aspetta ma l'altro non devi votare Vai Fatti vedere il malus Vai Questo qua è il mio E dovreste passare le guardie di un campo di concentramento per bambini Cioè dobbiamo passare sul bambino col bisognava righe? No 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 sulle guardie Ah sulle guardie Vive che li tengono intrappolati Mentre lo leggevo ci stavo in mezzo ripensando perché ho detto se devi passare sopra un campo di concentramento fai uno sterminio e basta Quindi non va bene Dimmi una volta che un treno ha fatto dei danni a un campo di concentramento Non dirò nient'altro Nel binario di Dado c'è uno chef che mette per i pubblici in ogni piatto Ragazzi il treno deve passare di qua Ma non ci credi neanche tu? Ci credo tantissimo A me non piacciono i pinguini Per quale fottuto motivo vorresti? Perché ti piacciono? Ho capito ma se li vuole scopare Tutti i gattini sulla terra Io voglio bene il mio gatto Tu preferisci gattini alla fessa? Che problemi hai? Quale fessa? Non dei gattini Gattini ha il sesso che ti regala tutti i tuoi desideri sessuali Ne ho molti pochi desideri sessuali Sono una persona molto basic Normi e vanilla quindi Ma lei ti farebbe scoprire cose che proprio non puoi fare a meno Poi Andrea ama il suo gatto Quello che odiava è morto Esatto E poi non vorrei mai creare un paradosso temporale Perché uccidere le guardie Cambierebbe la storia Cambierebbe la storia In meglio Ma questo è un campo Perché i gattini nel mondo sarebbero tutti vivi Complimenti Quanto tempo ci hai impiegato per questa scusa del cazzo? Beh il vostro genio del sesso Dopo aver convinto tutti che bere sperma faccia tenere dei superpoteri No non è vero Divertitevi E in che senso non è vero? Che era un cialtrone quel genio? Eeeh Mi ha troppo attrappolato Ragazzi ci sono comunque dei pinguini gay Io volevo dirlo No vabbè Ce ne sono tantissimi altri in Antartide Sicuramente altri gay quindi Immaginate i desideri sessuali più reconditi Più eccitanti Cioè ti fai un bicchiere di sperma E pace vabbè ogni tanto si fa Sì però ho capito che è quello il tuo desiderio da adesso in poi Quindi tu chiedi tre volte lo sperma Probabilmente perché ti ha convinto Vado ribalta la situazione Ma guarda Avete presente il bambino della pubblicità di Save the Children? Sì E ha una divertente abitudine Nel metterti i suoi testicoli in bocca ogni volta che ti addormenti Che simpatico E' un gianto nel suo paese E' molto divertente E' cultura ragazzi Piccolo prank E' cultura Io li siudo per salutare le persone dai Non lo so Adesso votami ancora i gattini Poi la notte mentre ti addormenti fai i gargarismi con le palle Dai oh oh Vabbè Io passo sul bambino gattini e le guardie No i gattini Io passo sulle guardie Io comunque passavo sul genio Perché ti piacciono le palle? No O ti piacciono le palle o ti bevi la spagna Siamo sempre lì ragazzi Devo dire almeno una delle due robe è mia Allora tu hai già deciso cosa gli chiedi? Uno solo Uno quest'anno te le lascio Uno solo E non può essere un occhio nuovo Te lo dico già Hai deciso? Un'operazione per la decirconcisione Oh ma non vi avevo visto Scusate stavo facendo la mia lista di Natale per una festa totalmente capitalistica Basata sullo spendere e lo spandere e far vedere ai nostri parenti quanto abbiamo speso più di loro per i regali per far vedere quanto stiamo bene Buon Natale Infatti quest'anno ragazzi come tutti gli anni alle feste ci avviciniamo a chi ci vuole veramente bene E non parlo dei tuoi genitori che hanno deciso di smettere di volerti bene dopo che hai lasciato l'università l'anno scorso dopo un anno di nulla facenza Eh? Parlo di NordVPN Lo sponsor di questo video Infatti NordVPN come ogni anno arriva a salvarci il Natale praticamente Con NordVPN avrete accesso non solo a tutta la protezione che vi spiego ogni volta Per la vostra connessione, per i vostri dispositivi, per i malware, c'è la threat protection che prima o poi imparerò a dire Ci sono un sacco di cose, è pieno di cose che vi proteggono NordVPN Ve l'ho sempre detto Ma quest'anno vi fa anche risparmiare Infatti NordVPN ha un sacco di utilizzi intelligenti Uno tra questi può essere quello di comprare i regali di Natale Pensateci bene Un sacco di piattaforme hanno sconti diversi di stato in stato A cui l'Italia non ha sempre accesso Però se voi non foste in Italia Metti caso che quel bellissimo giubbotto che vuoi comprare a tua mamma dal costo di 600 euro In Norvegia Mi costa 30 perché è scontato del Tanto per cento Facendo questo piccolo trucchetto si può anche risparmiare sui viaggi Volevi portare la tua ragazza? Volevi portare un tuo amico? Volevi andare da solo in viaggio a Capodanno? NordVPN pensa anche a te I voli continuano a cambiare di prezzo Anche di stato in stato Quindi se voi andate a spostarvi con il vostro VPN in un altro stato Guardate che voli ci sono tranquilli che potete risparmiare tantissimi soldi facendo così Ma NordVPN pensa anche a chi è pigrone che vuole stare a casa e chi non vuole spendere soldi per la propria famiglia perché non gli vuole bene Già, pensa proprio a voi che vi guardate serie tv per tutte quante le ferie sotto il piumone Grazie al NordVPN avrete accesso a tutti quanti i cataloghi di tutti gli stati di tutte le piattaforme Se su Netflix ad esempio non c'è Scrubs Voi volete vedervi Scrubs con la vostra famiglia a Natale Vi vedete il primo episodio spostandovi di regione insieme a loro Il secondo insieme a loro Poi vi andate via da casa Tornate dove eravate voi e loro non la possono più vedere Quindi ve la continuate da sole e li lasciate con la mano in bocca E che dire ragazzi io vi consiglio di farvi NordVPN anche solo per risparmiare durante queste vacanze qui Qui sotto trovate il mio codice sconto Fatelo perché risparmiate sui regali, risparmiate sui viaggi, risparmiate su tutto E alla fine viene fuori che ci spendete di meno a non farlo Che dire grazie a NordVPN per aver sponsorizzato questo video e aver salvato il Natale In pratica sembra uno di quei NordVPN salva il Natale Io ringrazio ancora NordVPN e vi lascio il video Non è contro Dado? Cioè Dado? Ah no O forse sì Mi stai da giocare per Dado, non è contro Dado Sul mio binario c'è purtroppo un insegnante depresso che ha condotto la sua classe di prima elementare sui binari Vabbè il mio insegnante di tedesco era così Proprio così? 25 persone su quei binari Io ne vedo comunque soltanto tanto Eh la coda continua qua E che il grafico si è stufato dopo tre Io ho 72 bombe sexy che vogliono scopare proprio te Te e te e te Lo accetto Sembra quasi il finale dell'islamismo Che sai tipo l'islamismo Ah in paradiso c'hai le 70 vergini che ti vogliono fare gli sessi Ah è vero Vedi ce l'hai eh Ma funziona così? Sì E perché nostra madre ci ha fatto diventare cristiani? Non l'ho capito Islamismo Muori 70 vergine Cristiano ti tocca il pipo Inferno Pensi di toccarti il pipo? Inferno Inferno anche adesso Oltre alla classe di prima elementare Ci sono anche tutte le persone licenziate a causa del covid Sono tante Non vedo nessuno youtuber qua in mezzo No No E cosa ti gioco io invece? Il primo carico al mondo di pensieri e preghiere davvero efficaci Signori e signore Ecco voi un camion pieno di solide realtà Quindi quella preghiera di vincere la supernotta è lì dentro? Sì Ed è quella vera non quella che ti tieni E in più ho 72 bombe sexy? Sì Devo ammazzare la scolaresca Me l'ha detto una voce nella testa Me l'ha detto il professore Me l'ha detto il professore Sì Passa sopra Passa sopra Passa sopra Che mi sta indicando Vieni 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 Bambini state in fila Dado la tua malvagia è? La capra più arrappata del mondo Mentre si dirige verso un parco giochi Pallisemente voglio ammazzare quella capra Perché tu odi Si può dire Non credo Le capre pedofile? Sì Ok sì Si può odi le capre pedofile Le odiamo tutte Però Dado Se tu vedi questa cosa così E fai un'inversione Il professore sta andando verso una La capra La sua capra palesemente La capra arrappata pedofila Sul tuo binario Dado purtroppo C'è un fungo appena scoperto Che pianterà delle spore nel tuo cervello Certo Classica storia Alla della stovasi Ma non li trasforma in uno zombie Che cosa? Ti costringe a fare sesso con i tuoi genitori Boh andrò a farmi fare le croccole delle 72 bombe sexy dopo Vabbè ho fatto sesso con mia madre Allora aspetta Oggi è il lunedì o il martedì Che devo scoparmi le 13 e 14 Tipo figa Tempo dei modificatori La mia preghiera sarà Fai se che io dimentichi Di aver scopato mia madre No perché dopo quello Quindi succede dopo In linea temporale Mi sa Ma è un carico di infine preghiere Spero La capra acquista un bonus davvero molto strano Ovvero un pene Terribilmente uccinato E sempre a caccia di sesso Tu dirai In linea col personaggio Potenzia È come se unissi una capra Ha un gatto E rimane una capra Non è che ti può raggiungere ovunque È uncinato È uncinato Cioè ti grabba col pene E poi ti grabba Io non so se hai mai fatto sesso Con qualcuno che ha un pene uncinato Ma non Sì? No però Possiedi il pene uncinato? No però deve essere terribile Allora Quel camion Di preghiere che si avvereranno Avranno il potere Di impedirti Di avere orgasmi Merda Quindi è tutto inutile Anche i genitori Sono illutili dopo No tu scopri Quei genitori Quindi scoppi all'infinito Non posso Dado hai appena perso Eh sì La capra non fa sesso con me La scuola non la conoscevo Ops No no fermi Prima che voi Cominciate con la votazione Avete 72 tipe fighe Con cui comunque discutere Del vostro outfit No ma è noiosissimo Parlare con le tipe fighe Sono finanzato Non me ne frega un cazzo Io investo 72 pompe sexy Un camion di Non avere più orgasmi E il fugo Evito di fare il sesso Con la mia famiglia Anche oggi Non si fa sesso Con i genitori Sì Dado mi spiace Non le ho fatte io le regole No vabbè ci sta Accetto la sconfitta Ci sta Signori spero che Il trauma del Trump 18 Vi sia piaciuto Normalmente non abbiamo trovato Dittatori Pensavo ce ne fossero molti di più E ragazzo Dado Chris Lenni per averci ospitato E ciao Vediamo tra tre mesi Ciao Ciao 5 6 Non con noi Nel prossimo video